Un bene prezioso da difendere su cui continuare a investire celebrato il 22 marzo nella giornata mondiale. È un'acqua di sorgente quella che scorre nei 2500 chilometri di acquedotti dietra, un'acqua che raggiunge più di mezzo milione di veneti e di cui i cittadini si fidano. Nel nord-est circa il 67 per cento degli utenti utilizzano acqua di rubinetto mentre invece il dato si inverte per quanto riguarda il resto d'Italia. Nel resto d'Italia si beve più acqua in bottiglie solo per dare un dato. Per produrre le bottiglie di plastica che si consumano nel nostro paese si usano 7 milioni di barilli di petrolio. Ma l'acqua che arriva ai nostri rubinetti è molto controllata. 48 mila le analisi eseguite ogni anno. Un'acqua che pochi minuti in caraffa perde anche quel sapore di cloro necessario per evitare contaminazioni batteriche nel suo percorso. E su questo percorso, dalle sorgenti alle case, Etra ha investito molto. Siamo usciti in pochi anni a ridurre del 5 per cento le perdite idriche nella nostra rete e lo faremo anche nei prossimi anni con interventi mirati e investimenti importanti. Nel 2018 investiti 30 milioni di euro. Nel 2019 a bilancio ci sono 32 milioni di euro destinati a potenziare i depuratori che permettono di restituire l'ambiente un'acqua pressoché pura. Un bene da conservare e il risparmio può partire anche da noi. Etra oggi, giornata mondiale per l'acqua, ha fatto un gesto simbolico, ha donato a tutti i propri utenti che si recano allo sportello un piccolo aggeggio, questo, che è un riduttore di flusso da inserire sotto il rubinetto e consente quindi di non sprecare acqua.